Oggi proviamo delle compatibili in espresso un po' particolari, sono della Vaimocca, noi della Vaimocca abbiamo già provato i caffè, abbiamo già provato tutte le varietà del caffè, oro, bar, decaffeinato e classica, miscele classiche, quindi queste le abbiamo già viste e oggi invece vediamo tutte le miscele aromatizzate nuove, cioè in particolare vediamo i caffè aromatizzati, vediamo le miscele solubili e i tè e gli infusi, li leggo perché sono veramente tantissimi, per quello che riguarda i caffè aromatizzati abbiamo la crema di Irlanda, la nocciola, il cioccolato e la vaniglia, quindi caffè aromatizzati alla vaniglia, al cioccolato, alla nocciola, alla crema di Irlanda, per le capsule solubili invece con le miscele solubili abbiamo il ginseng che molti apprezzano, il moccacino e l'orzo, mentre invece con gli infusi abbiamo il tè verde al limone, la tisana depurativa, la tisana ai frutti di bosco che mi dicono che è strepitosa e il tè rosso che anche questo è molto particolare. Bene oggi non le proveremo tutte perché sono 4, 8, 11 varietà di caffè aromatizzati che veramente vi permettono di gustare per tutto quello che volete, in tutti i gusti, ci sono le confezioni, guardate come sono belle, queste sono confezioni da 20, sono comodissime da tenere in casa, ne proveremo alcune che abbiamo qua e le proviamo e le assaggiamo assieme grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti